Benvenuti nel mondo degli orologi TV Steel. TV Steel è un marchio olandese di orologi di lusso fondato nel 2005 da padre e figlio Jordi e Thun Kobelens, che si è rapidamente affermato sul mercato. L'obiettivo dell'azienda è quello di unire l'aspetto robusto e imponente degli orologi da pilota con una tecnologia all'avanguardia, creando così un prodotto di alta qualità e dallo stile distintivo. Gli orologi TV Steel sono disponibili in diverse collezioni, ognuna con un proprio stile caratteristico. La maggior parte degli orologi TV Steel sono caratterizzati da grandi casse in acciaio inossidabile, quadranti con numeri grandi e cinturini in pelle o in metallo. La scelta dei materiali utilizzati è sempre di altissima qualità, garantendo la massima resistenza e durata. Ma non è solo il design che fa la differenza. I movimenti degli orologi TV Steel sono al quarzo o automatici, garantendo precisione e affidabilità nel tempo. I modelli più recenti della collezione, ad esempio, sono dotati di funzioni come il cronografo e il calendario, per una maggior praticità e funzionalità. Inoltre, TV Steel ha collaborato con celebrità come Kelly Rowland e David Coltart per creare edizioni speciali degli orologi. Queste edizioni limitate sono diventate oggetti da collezioni molto ricercati, grazie alla loro esclusività e al loro design unico. Ma non solo. TV Steel sostiene anche eventi sportivi come la Superbike World Championship, dimostrando una forte attenzione al mondo dello sport e alla sua filosofia di determinazione, forza e prestazione.